Un'altra variazione che possiamo fare è trasformare questa melodia di quattro quarti in un tempo tre quarti. Di solito quando si trasformano in tempi ternari, le melodie diventano molto più veloci. Quindi parto dall'accompagnamento e poi magari faccio qualcosa del tema variato. Poi possiamo fare ancora più veloce. La cosa del genere, ok? Quindi provate anche voi a cambiare il ritmo.